Eccoci ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, primo comune della giornata, visiterò Santo Stefano di Magra, ci troviamo sempre in provincia di La Spezia. Quello dovrebbe essere un asilo, penso. Grazie. Ora ci troviamo all'interno del centro storico di Santo Stefano di Magra ma in realtà questo comune conta circa 10.000 abitanti quindi in realtà è molto grande. Grazie. 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 qui ragazzi sembra c'è tutto spento tutto spoglio comunque questo qua chiesto a due signori prima mi hanno confermato che è proprio proprio questo questo posto questo è un municipio un po strano c'è un po di vento tra l'altro per farvi capire che non è proprio piccolo questo posto questo comune ha anche un centro commerciale che si chiama la fabbrica e verso 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 sinistra scusate c'è anche una decatron comunque dal punto di vista di cose importanti da vedere non c'è praticamente niente a dire non c'è praticamente nulla di importante da vedere a parte alcune chiesette così qua e là il resto è tutto qui comune finito è un bel bel comune posso dire che c'è la parte storica il centro storico dove c'è il borgo dove è molto bella e poi c'è la parte anche non so più più giovanile più moderna dove c'è il centro commerciale mi piace mi piaciuto molto se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video